Non voglio che il mio arrivo a Caltanissetta sia un evento, ma l'inizio di una collaborazione in un clima di serenità e partecipazione. Si presenta così il comandante provinciale dei Carabinieri Gerardo Petitto, al terzo giorno dal suo incarico ufficiale, scegliendo di non stare dietro ad una scrivania, ma accanto ai giornalisti per la sua prima conferenza stampa al comando provinciale della compagnia. Di origine avellinesi, nato 45 anni fa a Napoli, dove nel 1990 ha cominciato a frequentare l'Accademia. Prende il posto del comandante Angelo De Quarto, che sarà assegnato in uno degli uffici militari del Comando Generale dell'Arma. Alla guida delle compagnie di Gallipoli e Castellammare di Sabbia, Petitto, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Monza, ha fatto parte anche del nucleo investigativo di Bari, del reparto della sicurezza della Presidenza e per un periodo è stato assegnato al Comando Generale di Roma. Per la prima volta in Sicilia, Petitto, accompagnato dal Maggiore Domenico Dente, che a breve lascerà il comando della compagnia Nissena, il quale sarà occupato dal comandante Mauro Epifani, ha voluto sottolineare durante l'incontro quelle che sono le emergenze che interessano il capoluogo nisseno, rinnovando l'impegno per il suo nuovo incarico. Mi aspetto di lavorare seriamente in sinergia con gli altri attori della sicurezza qui in città. Questo è un territorio storicamente intriso di dinamiche legate alla criminalità organizzata. È forse ancora troppo presto per poter dire che me ne sia reso conto che le abbia percepite. Però essendo comunque un territorio dove la mafia è nata e ha prosperato e si è affermata, non bisogna abbassare la guardia, anche se fenomeni di natura, caratterizzazione strettamente mafiosa, al momento non se ne ravvisino o si ravvisi meno il loro peso, la loro presenza. Non fosse altro che qui comunque è presente uno degli uffici giudiziari più attivi e impegnati della Sicilia e dell'intero paese. È dimostrazione che il fenomeno esiste e su questo comunque viene posta attenzione e impegno. Io ora vedo la necessità di impegnarsi e lavorare senza protagonismi, senza personalizzazioni, cercando di far affermare per quanto mi riguarda la presenza dell'istituzione che rappresento come momento di contrasto a dinamiche associative e di vicinanza alla popolazione e alle istituzioni. L'articolazione del dispositivo sul territorio è una competenza che per l'arma dei carabinieri risale direttamente al Comando Generale che la parametra a livello nazionale secondo dati di dimensionamento di popolazione e di reati consumati e denunciati. Le articolazioni dal basso livello Comando Provinciale e Comando Legione Sicilia devono stimolare e via via affinare il dispositivo alle esigenze del territorio. Ma in questo momento mi sembra che il dispositivo sia adeguatamente dimensionato alle esigenze di questo territorio e di questa popolazione.